Abbiamo studiato due iconografie, quella legata agli artisti siciliani, al mondo che ha come guida Giordano Cascini, il padre gesuita geografo di Santa Rosalia e l'altra che Dandic fa sua, rivestendo in qualche modo l'iconografia e lo stile tradizionale, ancora legata alla maniera degli artisti siciliani, lo fa diventare nuovo, vibrante, barocco e quindi ecco queste due iconografie a confronto qui, a confronto anche con il libro classico di Giordano Cascini che nel 27 fa una prima stesura di incisioni con l'iconografia, la storia di Santa Rosalia e manda proprio ad Danversa, a Van Dyck nel 27 non c'è più, si sta qui a Palermo nel 24, nel 25, nel 27 è già Danversa, riconosce sicuramente questo volume e ce l'ha tra le mani e fa lui una nuova iconografia della Santa e allora mettiamo accanto il volume del Cascini e quello del Van Dyck, quello in cui ci sono le incisioni tratte dai disegni di Van Dyck e queste due iconografie identiche ma diversissime, sono due mondi, uno tradizionale e un altro rivoluzionario. Abbiamo ricordato il volumetto con le incisioni tratte dai disegni di Van Dyck proprio della Fondazione Sicilia ma non possiamo non citare le opere che vengono dal Museo del Prado come proprio l'Estasi di Santa Rosalia che questa figura statica di Van Dyck fa di San della Santa che in fondo è la Santa che intercede per Palermo ma questo volto estatico ha dato proprio il titolo alla mostra.